Benvenuti benvenuti Crypto Cowboys di tutta Italia. Oggi andremo a parlare di Shiba Inu perché ci sono importantissimi aggiornamenti e ovviamente andremo a vedere anche quello che sta avvenendo su Bitcoin ma non solo, anche su Soliana. Naturalmente se non l'hai ancora fatto ti ricordo di andare a vedere la live che ho tenuto il 19 gennaio 2023 perché è stata letteralmente epica, trovi sotto il link in descrizione e per cui direi di iniziare subito. Andiamo subito a vedere i top gainers e i top losers di giornata. Tufu è il più 39,5%, Matic più 8,7%. I top gainers di giornata risulta essere Optimism col meno 8,2% e Lido Down col meno 8,1%. Ora vorrei ricordarvi anche quella che è la situazione sul settimanale perché secondo me dal mio punto di vista è assolutamente insostenibile. Vediamo come addirittura Aptos ha registrato il più 126% e in generale letteralmente le altcoin in questo momento sono on fire. Quindi da mio punto di vista lo dico e lo ribadisco, secondo me arriverà un dump. Detto questo andiamo a vedere quello che sta avvenendo su Shiba Inu. In questo momento prezzo nominale di 1153, market cap di 6,3 miliardi e volume in questo momento di 201 milioni. Quindi che cosa stiamo vedendo in generale anche sulle altcoin? Stiamo vedendo una diminuzione primo dei volumi e vorrei farvi anche vedere quello che sta avvenendo su Shiba Inu per quanto riguarda il numero di holders che in questo momento sono 1.288.000, quindi stanno aumentando nel corso del tempo. E tra l'altro sia Binance che Crypto.com stanno continuando ad accumulare. Quindi in ottica anche secondo me di quella che sarà la grande dip voglio vedere che sia Binance che Crypto.com vadano ad accumulare nel lungo periodo. In vista della prossima Buran, ovviamente poi c'è stata anche qualche notizia buona per quanto riguarda Shiba Inu ma la mia idea è sempre che vedremo che è un scarico sulle altcoin. E in sostanza è arrivata una nuova whale che è andata pensata ad acquisire addirittura 3 trillion di Shib. Poi andrà una notizia molto interessante per quanto riguarda anche Shibarium e il token BONE che è stato integrato all'interno dell'Atomic Wallet, quindi questa è una notizia comunque che sicuramente in questo caso va ad aiutare BONE. Come ve lo saprete è stata anche integrata la beta di Shibarium per cui vedremo che se in futuro lanceranno poi la Shibarium la potremmo chiamare l'alpha, la versione ufficiale, secondo me ci vorrà, io spero, due anni ma in ottica pre-BURAN almeno questa è la mia idea perché al momento lanciare la notizia di questa portata secondo me non ha alcun senso potremmo avere un 10% o un 20% però non metterebbe Shibarium tra i primi posti per quanto riguarda le algole. E poi infine arriva questa notizia che anche Travalia va a integrare il Shib token, che cos'è Travalia? Cioè non vi permette di prenotare dei viaggi attraverso le criptovalute. In questo caso stanno offrendo un viaggio a Phu Quoc che è in Vietnam, se volete andarci potete pagare con Shibarium. Quindi io ti direi molto interessante perché sappiamo che Shiba Inu dal mio punto di vista non è assolutamente un meme token come da tanti definiti. Addirittura c'erano alcuni youtuber di carattura molto, ma molto importante che accusavano Shiba Inu di essere uno scam e che Shiba Inu sarebbe morta ma io vorrei ricordarvi che Shiba Inu è l'antagonista di Dogecoin quindi secondo me avrà vita lunga. Ovviamente non sono così finanziati, così trend, però questa è la mia idea. E soprattutto c'era qualcuno che sosteneva Taraluna Classic durante le volte mai in maniera direi prepotente e poi Lung ha scammato. Ovviamente nessuno conosce il futuro, nessuno appare il cristallo però non scaliamoci contro Shiba Inu che è assolutamente una community molto forte e secondo me l'obiettivo non è quello di scammare attraverso Shib. Ovviamente fatemi sapere anche voi la vostra nei commenti. Andiamo a vedere anche quello che sta avvenendo su Shiba Inu in questo momento siamo a 1152, andiamo a vedere subito i weekly perché abbiamo un'importantissima resistenza sui 50 quindi attenzione perché qui potenzialmente potremmo fermarci e vorrei farvi anche notare questa cosa qui. Io vi parlavo di un target sui 1300, addirittura abbiamo fatto proprio sui 1300 guardate qui, avevo posta resistenza e probabilmente andremo giù. Il mio target ora è i 1000, quindi voglio vedere se andiamo a prendere il primo elemento che sarebbe una storia psicologica molto importante comunque se Shiba va a tenere i 1000 quindi dopo questo super pump secondo me farebbe tra virgolette bene. Ok Shib, magari intanto stare sui 1000, vedremo se sui 1000 ci sarà una risposta probabilmente sì, dobbiamo vedere le RSI, tutti gli indicatori e così via e magari da qui puoi nuovamente tornare a lateralizzare. Ok, questo è quello che mi ha spettato di Shib, per cui per ora primo target i 1000 poi vedremo che quello che succederà, nel caso perdissimo i 1000 e addirittura mi sono posto un target di 5,75 però per il momento voglio rivedere i 1000 e poi andremo a ragionare nuovamente quindi secondo me è letteralmente probabile buono che il RSI in questo momento si stia comunque scaricando in maniera forte nonostante non ci sia tanto questo dump molto importante perché in sostanza dall'ultimo massimo relativo se andate a fare, ve lo dico subito un meno 12%, niente di che, su un altcoin come Shib quindi però per ora mi aspetto i 1000, vedremo se effettivamente sarà così poi vorrei farvi notare Shiba Inu, ok, contro Bitcoin perché cosa vediamo? qui c'è un importantissimo supporto sul 5 alla meno 8, ok che sta avvenendo già da un bel po' di tempo pensate, dal 28 giugno sta tenendo questo supporto di Shiba contro Bitcoin potrebbe essere interessante sfruttarlo, sì quindi rimane in concomitanza i 1000, ok se andiamo a vedere anche questo supporto, se andrà a tenere potrebbe essere interessante, ok, valutarne eventuali entry ovviamente ho solo un ecosystem finanziario, un ecosystem trading e vi ricordo che si valuta sempre, diciamo sul momento perché ovviamente le analisi cambiano anche sul momento un'analisi fatta due giorni fa cambia letteralmente nel senso che se io dico, secondo me andrà a 1000 e poi dobbiamo ragionare se si va al di sotto o se eventualmente ci può essere una risposta quindi formatevi, ok questa è la più grande arma che potete avere andate a vedere anche la live che ho fatto trovate sotto il link in descrizione se siete nuovi perché assolutamente con quella live potrete avere un maggiore know-how ora andiamo a vedere quello che sta avvenendo su Soleana in questo momento siamo a 23.88 dollari e anche qui su Wiki li siamo molto esposti addirittura siamo arrivati a 49 però anche qui ci dà maggiori indicazioni il giornaliero in questo momento RSI di 63 quindi anche qua stiamo caliando primo elemento però siamo ancora tra virgolette in una minibolla nel senso dopo, ok, Sky Rockets che abbiamo registrato dai 8 dollari siamo arrivati fino a 25 per cui Soleana si è andato a fare un 300% nel giro di un mese in base ai cicli, ok, messi lì io mi aspetto nuovamente, ok, che si torni ad ampare su Soleana quindi vedremo quello che verrà ovviamente ci andremo ad aggiornare però secondo me Soleana è una delle coin in questo momento più volatili e più interessanti da andare a soltare per quanto riguarda il lungo termine ovviamente io sono bulli su Soleana ma ovviamente acquistare Soleana a 23 dollari o acquistarlo a 18 in questo momento cambia davvero tanto soprattutto in ottica lungo termine ora vorrei andare a chiudere con Bitcoin perché ovviamente lui è il re delle criptovalute in questo momento weekly editura 56 RSI migliori mondi possibili potremmo raggiungere i 70 RSI, sì e ieri ho fatto una live e vi consiglio anche se di andarla a vedere ma se volete se no no, ok però che cosa ho riportato? che in sostanza potrebbe essere un movimento simile a quello di 19? sì, potrebbe essere e vi ricordo che nel 19 facciamo addirittura RSI 82 sul settimanale però vi ricordo che da un punto di vista statistico la probabilità che andiamo sopra è molto bassa quindi potrebbe invertire completamente primo elemento secondo elemento guardate l'inclinazione a curva quanto siamo inclinati in maniera verticale questo è un vero e proprio missile quindi attenzione ovviamente sul daily che cosa vediamo? vediamo che l'RSI è ancora a livelli assurdi siamo addirittura arrivati a 90 ora pian piano stiamo scaricando potrebbe ripartire sai, si può ripartire però anche qui rischio di rendimento secondo me probabilmente andremo forse a prendere i 25 così sembrerebbe indicarci il movimento però però ragazzi secondo me in questo momento ve lo dico ve lo rivedisco non ha senso dal punto di vista rischio di rendimento perché ve lo dico ancora una volta secondo me torneremo ok nella zona dei 15 dei 15.5 ok questo è il mio target perché? perché proprio da un punto di vista statistico vediamo che più volte Bitcoin ha raggiunto il 30 delle 6 quindi attenzione poi ovviamente bisogna integrare l'EMA tutti gli indicatori ora io vi accorcio ok il tutto quindi questo deve essere il senso e poi secondo me un elemento che ancora manca a quello che sarà probabilmente poi la fine ok a Buran è quello di vedere comunque un alto coindex sotto ai 25 sull'annuale in questo momento siamo a 27 vi ricordo che nei precedenti bull market abbiamo visto più volte l'alcoin letteralmente crashare e dal mio punto di vista non abbiamo ancora visto il peggio concludendo per cui ritengo che in questa fase di mercato non bisogna assolutamente farsi prendere dalla fomo e per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di di suggeritare il like di iscrivervi al canale e ci vediamo presto grazie a tutti grazie a tutti